Salve a tutti amici, buona domenica e soprattutto buona domenica delle palme a tutti. Dopo sei giorni di riposo, torniamo con un altro video, ne ho approfittato per riposare un po', visto che c'era la sosta per la nazionale, allora c'è stato un po' di sosta anche per me. Ma oggi riprendiamo a fare video e riprendiamo con una notizia grande, una notizia bomba mi viene da dire, perché oggi la gazzetta intitola Gudmundsson ha detto sì all'Inter e questo già vi dico che sarebbe un colpaccio incredibile, un colpaccio assoluto e soprattutto un colpaccio che serve alla causa nera azzurra. Andiamo a leggere l'articolo. Titolo. Gudmundsson ha detto sì all'Inter. Dettagli e scenari. Novità nella corsa a Gudmundsson. Rivelazione della Serie A che piace alle big d'Italia e a club di Premier. La Juventus è sul calciatore ma, come riferito dalla gazzetta dello sport, l'Inter si è inserita da qualche settimana. Ora, riferisce la Rosea, l'islandese ha dato l'ok per trasferirsi all'Inter, dunque dando una disponibilità di massima. Il Genoa dal canto suo chiede 30 pippe, ma non è da escludere che i nerazzurri possano inserire Valentin Carboni nell'affare per abbassare il prezzo. Per Gudmundsson anche interessi dalla Premier, come spiega la gazzetta. L'attaccante del Genoa è finito pure nella lista del Tottenham e di almeno un altro club di Premier League, ma l'indirizzo Gud ce l'ha chiaro in testa. Potendo scegliere, vorrebbe continuare a essere protagonista in Italia. È una buona base di partenza per mettere su una trattativa vera e propria. L'altro pezzo del discorso è tutto il gradimento dell'islandese sulla destinazione Inter. Il club di Zhang non è l'unico interessato del nostro campionato, pure la Juventus segue da vicino l'evoluzione del giocatore del Genoa. L'Inter però si è mossa finora con maggiore decisione. Di seguito i dettagli sulla possibile formula. La strada più logica porta un prestito oneroso con obbligo di riscatto dopo 12 mesi. Ma è solo una delle possibilità, anche perché l'Inter ha sottocontratto un giocatore, oggi al Monza, che pur far gola al Genoa, Valentin Carboni. I nerazzurri puntano sull'argentino, tanto da aver rifiutato a gennaio 20 milioni dalla Fiorentina, che si era rivolta al club di Zhang dopo aver ricevuto il no per Gudmundsson. Cioè la Fiorentina aveva ricevuto il no da Gudmundsson. Non perderebbero mai il controllo sul giocatore, al quale però potrebbe fare bene almeno un altro anno di crescita lontano da Milano. Quindi, mettendo un po' di ordine, Gudmundsson ha dato il suo ok per trasferirsi all'Inter. Il Genoa chiede una cifra intorno ai 30 milioni, che può essere 27, 28, 31, 32, diciamo 30 per arrotondare la cifra. È chiaro che l'Inter farà di tutto, come ha fatto per frattesi, per abbassare questa cifra, inserendo qualche contropartita. Qua dice Valentin Carboni, che sarebbe un elemento valido, validissimo della rosa, su cui però l'Inter non vuole perdere il controllo. Perché Carboni è un classe 2005, 19 anni, molto promettente. Quindi magari l'Inter dice, guarda, io te la do a Carboni, però qualora io lo volessi di nuovo, magari inserire un diritto di recompra. Ecco, quella sarebbe una cosa molto intelligente. Per tutti coloro che diranno, ma con quali soldi lo prendete, oppure gli interisti stessi che dicono, con quali soldi lo prendiamo, con i soldi del Monopoli? Io rispondo, lo prendiamo con gli stessi soldi con cui abbiamo preso Pavard, oppure gli stessi soldi con cui abbiamo preso Frattesi. Se poffa, se poffa, anche perché vi ricordo che l'Inter prenderà soldi dalla nuova Champions e soprattutto dal Mondiale per Club, che solo la partecipazione ti dà 50 milioni di euro. Ora, è chiaro che queste cifre, questi incassi che vengono alla società, non è che verranno tutti messi per saldare il debito. Una parte verranno destinati al mercato. Quindi questi soldi sarebbero poi da mettere sul piatto per Gudunson. Poi, la questione societaria, Zhang che fa, Ok3 prende la società perché Ok3 non vuole più rinnovare il prestito. Queste sono cose che a me interessano, perché parliamo sempre della mia squadra, ma interessano il giusto. Io sono un tifoso, io non sono il ragioniere dell'Inter che deve far quadrare i conti, quello è marotta, fa un altro tipo di lavoro. Io sono un tifoso, a me basta che la squadra sia competitiva ogni anno, comprano giocatori forti e sia sempre più forti. A me questo basta. Poi, il debito, chi sarà il presidente, chi sarà il proprietario, a me non mi interessa. Mi interessa il giusto, ok? Quindi, venendo all'aspetto tecnico e tattico, Gudunson sarebbe un attaccante che casca a fagiolo nel nostro sistema di gioco. No, perché già ho letto qualcuno che ha detto, ma dove lo mettiamo Gudunson che è un trequartista, a noi serve un vero attaccante. Già l'abbiamo preso, taremi. Cioè, tu fai un reparto d'attacco, Lautaro, Turam come titolari, perché loro saranno i titolari, e come panchina, Taremi, Gudunson. E allora sì che puoi giochi, e allora sì che puoi puntare in alto, perché la panchina è comunque forte. E poi dobbiamo smetterla di vedere i panchinari come quelli scarsi, no? Quelli là che non devono giocare. I panchinari devono giocare, anzi, la panchina, paradossalmente, è più importante dei titolari, perché molte partite si vincono con la panchina, con la squadra lunga, con la rosa lunga. Quante volte lo diciamo? E' grazie alla panchina che hanno vinto la partita. Eh, ci vuole la panchina lunga per vincere le competizioni. Perché se noi vogliamo puntare in alto l'anno prossimo e provare a vincere qualcosa di più del campionato, devi avere la rosa lunga. Perché l'anno prossimo sono partite in più che si giocano. C'è la nuova Champions, che sono due partite in più nella prima fase, e se non ci qualifichiamo nelle prime otto, abbiamo poi un altro turno in più da giocare, che sono i sedicesimi di finale, che chiamano playoff, ma è la stessa cosa. Quindi altre partite in più, senza contare poi il mondiale per il club che si giocherà nell'estate del 2025. Quindi capite bene quante partite abbiamo da giocare. Altro che 50 partite. Qui superiamo le 60 partite all'anno. Quindi il reparto offensivo è assolutamente non da rivoluzionare, ma da aggiustare. E quindi se mettiamo Taremi e Gudmundson, ma ben venga! E' oro che cola! Poi, chiaramente, abbiamo questi esuberi, perché Sanchez è assolutamente da mandare via, perché abbiamo visto che purtroppo non ha più il fisico, non ha più l'età per giocare a grandi livelli. Poi tornerà Correa dal Marsiglia. Cioè, anche al Marsiglia ha dimostrato tutta la sua scarsezza. Quindi, Sanchez e Correa non li voglio vedere più. Via, aria e monti. Arnautovic avrebbe un altro anno di contratto. Che facciamo? Ce lo teniamo? Certo, sarà di difficile sistemazione. Magari te lo tieni come quinta punta, ma senza pretese di giocare. Bene, se accetta questo, onore e piacere, si mette a fare la quinta punta e va bene così. Se non accetta questo, anche perché lui sa benissimo che l'Inter, già avendo preso Taremi, significa che non punta più su Arnautovic. Anche perché Arnautovic, quest'anno l'abbiamo visto, è molto inaffidabile anche dal punto di vista fisico. Cioè, ha subito due infortuni quest'anno. E già l'anno prima al Bologna aveva subito un altro infortunio medio grave. E quindi bisogna comprare questi giocatori. Quindi va bene, benvenga l'eventuale acquisto di Gudmundson. Secondo me è un investimento che vale i 30 milioni, un investimento che dobbiamo fare e che ci serve dal punto di vista tecnico. L'unica riserva che mi tengo, ma questo lo dico con tutti i giocatori che passano da una medio piccola a una top squadra, bisogna vedere, ecco, come reagirà a questo cambiamento. Però, non ho dubbi sul fatto che sia un grande giocatore e quest'anno è esploso letteralmente. Io che ce l'ho al fantacalcio, me ne sto vedendo bene dei suoi gol, dei suoi assist e di tutto quello che sta combinando. Vabbè ragazzi miei, ci salutiamo, speriamo bene, vediamo di fare una squadra ancora più forte per la prossima stagione. È chiaro che adesso siamo in quella fase della stagione dove siamo soltanto dentro al campionato che, tra virgolette, è quasi vinto. Quindi è anche normale dare un occhio alla prossima stagione. Abbiamo anche il tempo per progettare la prossima stagione senza perdere di vista, ovviamente, i futuri, i prossimi festeggiamenti per la seconda stella. Perché quello lo stiamo aspettando tutti. Un saluto a tutti, buona domenica, alla prossima. Ciao! Ciao!